Rita Borsellino, una viaggiatrice nei territori del dolore, una pellegrina sulla sequela della legalità. Le parole che lei ha inseguito, ha inanellato nel suo lungo cammino, in lungo e in largo per l'Italia, sono le parole fondamentali, quelle che talvolta mancano al vocabolario della politica. Sono le parole in cui il principio di eguaglianza in qualche maniera fonda la credibilità dello Stato di diritto. La democrazia, la libertà, i diritti sociali, i diritti umani disegnano il profilo di una società accogliente, solidale, conviviale. Ahimè, Rita Borsellino oggi è una delle testimoni privilegiate della regressione, del salto all'indietro, del capitombolo che vive purtroppo il nostro sud, la nostra Italia. Allora Rita, benvenuta in Puglia. Grazie, grazie, sono venuta volentieri, ogni volta che posso incontrare la realtà pugliese e te è un po' come respirare una poccata di aria a vita, come respirare di nuovo vento di speranza. Quel vento di speranza che aveva spilato così forte, aveva soffiato così forte dopo i fatti tragici del 92 e che aveva veramente suscitato le coscienze. C'era stata assunzione di responsabilità, c'era stata voglia di cambiamento. Poi purtroppo, come dicevi tu, in questi anni sono stato un po' testimone di questo addormentarsi prima e poi un capitombolo all'indietro. Non ci si indigna più, non ci si meraviglia più di niente, si subisce semplicemente e però questo non va bene e noi lo sappiamo bene. Non va bene, non va bene soprattutto in quel meridione d'Italia che questo lo vive un po' come una malattia antica. Torno con la memoria al momento di quel dolore per te anche familiare, privato, per tutti noi un grande dolore per te anche di fronte alla strage di Capacci prima e alla strage di Via D'Amelio poi dice basta. Si dà la forza di reagire, trova dentro di sé l'energia per non rassegnarsi a quella frase disperata che aveva detto un uomo meraviglioso come Nino Caponnetto tutto è finito, tutto è finito. No, dal dolore, dal punto più basso della storia italiana tutto poteva ricominciare. Anche per me in vita quei giorni furono dolorosi, furono giorni di paura. Ricordo che abbracciai a lungo mio padre, pianzi tantissimo e dissi papà ho paura, papà ho paura, dobbiamo fare di più, dobbiamo fare qualcosa, mi arresto un meridionale, mi arresto italiano, mi arresto europeo come nessun'altra vicenda. Da allora ho amato la Sicilia, di un amore che tu sai è totale, la raggiungo come se fosse in continuità con la mia Puglia e però Puglia, Sicilia, Calabria, Campania, queste terre martoriate dalla rassegnazione, dal cinismo e dalla mafia e tuttavia noi abbiamo la necessità di spiegare che si può reagire, che è necessario reagire. Sicuramente sì, io dico che in quei giorni nacque in mezzo allo sgomento e alla paura, proprio la paura, nacque una grande passione che io oggi sono parlamentare europea. La mia attività nasce naturalmente dalla mia passione per questo Sud, questo Sud così abbandonato, così trascurato ma anche così diffamato. Convertire invece questo Sud come opportunità, opportunità per se stessa, opportunità per l'Italia, opportunità per l'Europa, perché noi rappresentiamo il confine più meridionale di questa Europa, ma a me piace vederlo come una sorta di molo che si allunga in questo Mediterraneo che deve essere il mare che ci permette di vivere una trasformazione profonda, così è per l'Europa e noi dobbiamo esserne protagonisti. Allora poter andare in Europa a far sì che di Sud si parli e ci si accorga in maniera diversa da come si è fatto fino adesso, non come un peso ma come un'opportunità. E devo dire che tu sai quanto io sono vicina alla Puglia, tu ti senti siciliano, io mi sento un po' pugliese, ho avuto un rapporto molto forte, molto intenso con la tua Puglia, proprio la tua, quella che ha fatto riferimento a te e a realizzare tante delle cose che avevamo anche sognato insieme. Il programma partecipato che avevamo fatto in Sicilia prendeva molto spunto da quello che già si faceva in Puglia e che questo tu e il tuo governo di questa regione sia riuscito a realizzare in tante, in tante circostanze, in tante situazioni, a me è suscita davvero una punta di invidia ma soprattutto tanta speranza perché vuol dire che è impossibile, se si è fatto in Puglia si può fare dappertutto, ci vogliono le persone giuste. Forse il segreto nel fatto che abbiamo avuto dei maestri e delle maestre anche fuori dalla Puglia, forse il segreto nel fatto che abbiamo scoperto che l'antimafia, diciamo quella più robusta, quella più forte, è nata nelle campagne del sud e nel dopoguerra, è stata l'antimafia della povera gente, dei capi Vega, dei capi bracciante, è stata l'antimafia di Epifanio di Puma e di Placido Rizzotto. Siamo ispirati alle storie di chi ha proposto contro la mafia un'antimafia sociale, un'antimafia dei diritti, delle cose concrete. Abbiamo provato a finanziare con una linea specifica di finanziamenti comunitari la gestione sociale dei beni non solo confiscati ma anche dei beni sequestrati alla mafia. Abbiamo incoraggiato la nascita di cooperative, di libera l'associazione delle associazioni antimafia. Abbiamo spiegato a noi che essere una terra liberata dalla mafia significa essere una terra di libertà. Se tu ti liberi dalla mafia più facilmente poi ti puoi liberare dall'inquinamento, ti puoi liberare da coloro che vogliono privatizzare tutto, anche l'aria che respiro, anche l'acqua, ti puoi liberare dall'ipoteca del nucleare, ti puoi liberare dalla cultura del clientelismo, della corruzione, della prepotenza. L'antimafia non è semplicemente la trincea di guerra contro i clan, è l'allusione a una società più gentile, a una società che mette al centro l'industria della bellezza e della qualità dei rapporti umani. Questo ce l'avevi insegnato voi. Noi pugliesi l'abbiamo imparato molto da voi pellegrini di verità e testimoni dell'ingiustizia. Ma noi l'abbiamo imparato sul campo, l'abbiamo imparato e ci costato tanto, per cui non vogliamo, non possiamo, non sappiamo rinunciarci, assolutamente no. Si tiene duro, ci sono momenti in cui bisogna veramente stringere i denti e puntare i piedi, invece ci sono momenti che poi, grazie a quello stringere i denti e puntare i piedi che ci permette di radicarci bene sul territorio, poi si può fare un salto in avanti, si può correre davvero verso questa affermazione della legalità sui territori, perché è proprio così, anche se dobbiamo stare attenti a cosa si intende per legalità. L'egalità l'abbiamo vista e imparata e praticata grazie ai tanti, tanti che ci hanno creduto davvero e che sono stati quasi profeti nelle nostre terre. E allora abbiamo il senso vero della legalità, quello di norme, di regole che servono veramente a tutti e che servono soprattutto a tutelare i più deboli, a tutelare i più frazili e questo ci permette di guardare con un occhio più limpido, forse con più lungiminanza anche a quelle che sono le necessità di un territorio e le potenzialità di un territorio da sviluppare per farlo diventare veramente, come dire, l'ambiente giusto, perché si possa crescere in armonia e ci si possa sviluppare davvero. Questo dialogo strano tra me e Rita Borsellino sembra più ispirarsi alle operette morali di Gliopardi che non alla lotta politica propriamente intesa. Stiamo parlando nel mese di marzo 2010, mentre la maggioranza di centrodestra che governa questo paese uccide il diritto al lavoro mutilando l'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, mentre la maggioranza di centrodestra chiude persino quella parziale voce di libertà che sono le tv e le radio locali, mentre la maggioranza di centrodestra vuole infiggere una lesione gravissima allo Stato di diritto immaginando un decreto in cui si scrive che le leggi che valgono per tutti non valgono per i sodali del Presidente del Consiglio, mentre il Ministro della Difesa minaccia sangue e si trasforma in una specie di butta fuori nelle conferenze stampa del Presidente del Consiglio, mentre una classe dirigente nel suo complesso dà una prova di sé che è muscolare e patetica, che è goffa e autoritaria. Noi, con queste note un po' pessimiste, ma il pessimismo di chi non si ferma, di chi non si rassegna, di chi non si arrende, cerchiamo di scambiarci le parole che sono le promesse che io e Rita ci siamo sempre fatti, di continuare a vegliare come le fintinelle in questa notte, fiduciosi il tema poi di vedere l'alba.